Tutto il mondo è un teatro, e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Signor Montano stavamo parlando, quando ecco entro un tale gridando aiuto, è cazzo. Passano tre giorni e tre notti. L'hai fatto benissimo, non ci hai pensato tanto. Hanno le loro uscite, le loro etate, e ognuno vivendo recita molte parti. Festeggia questo fatto di una difficoltà spuntandola un po'. Un po' più in là. Ma per il cazzo non fai paura a nessuno, voglio fare una sorta di merda vera. Ah! Non mi fai paura, tu ci devi applicare. Signor, sì, signore, e tu te scusai. Di un dramma in sette era. Prima il neonato, che miagola e vomita in braccio alla sua baglia. Poi il lagnoso scolato, che striscia malvolentieri come una viscia fino alla scuola. Appassionata volontà umana, il ramo raccoglie tutte le sue forze, fisica e spirituale. Voi respirate, eh? Un, due, ehi. Sono un tipo estetico, asmatico, sintetico, linfatico, cosmetico. Un. Poi l'innamorato, che soffia come un mantice la sua ballata dolente in lode delle ciglia dell'amata. Poi il soldato, irsuto come fiera, sempre pronto alla lite, sempre in cerca di un'effimera gloria, perfino nella bocca di un cannone. Datevi il tempo, non è che dovete cominciare, datevi proprio il tempo. Di stare in uno stato vitale. Poi il giudice, col grasso ventre tondo, ben imbottito di pingui e capponi, gli occhi severi, la barba ben tagliata, pieno di antichi detti e di luoghi comuni, che recita anche lui la sua parte. La sesta età ti porta in ciabatte uno smunto pantalone. Gli occhiali sul naso, la borsa sul fianco, le brate di un tempo conservate con cura, che diventano larghe, rambe stecchite e il vocione che torna a puerire e pigolato. Stride e fischia e infine l'ultima scena, che chiude questo movimentato dramma in una nuova infanzia. Nel più completo obbliglio, senza denti, né occhi, né palato. Allora, diciamo che si è su una piattaforma e la roba comincia qua. Senza niente.